Sì, ci siamo posti il problema di risolvere un problema per gli abruzzesi, un problema annoso. Noi abbiamo come obiettivo quello di fare una fotografia di quella che è la gestione del sistema idrico integrato nella nostra regione con tutte le criticità che ci sono in ogni provincia, quella di Chieti su tutte, fare una fotografia, cercare delle soluzioni, capire quali sono i problemi, di quanti fondi abbiamo bisogno e risolvere i problemi dei cittadini abruzzesi. Del resto fondi grazie al PNRR ne avremo, per cui la Commissione è finalizzata di individuare tutte quelle opere, quegli interventi che saranno necessari a ridurre le drastiche perdite di acqua che noi abbiamo nelle nostre reti. Pensiamo che soltanto nel capoluogo della provincia di Chieti le perdite superano il 70%. Secondo noi è inaccettabile, i cittadini ci chiedono di risolvere il problema dei razionamenti e delle tariffe che non si comprende bene come vengano calcolate, per cui il soggetto principale di questa Commissione saranno certamente i cittadini e le audizioni dei cittadini e poi le audizioni di tutti i soggetti e gli attori interessati nella gestione del sistema idrico e noi speriamo nella collaborazione di tutto il Consiglio regionale perché non è appunto una commissione d'inchiesta contro nessuno, è una commissione d'inchiesta per gli abruzzesi.